Grazie a tutti Però state tranquilli Chi lavora in nero Perché il lavoro sbiadisce piano piano Lavora in nero Perché c'è il conto in rosso Ti fecconta arancia E poi rimani in bianco E lo Stato dov'è? Ti chiede il conto Questi sono gli italiani Degli studenti fuori sede Chi è che è fuori sede qua Degli studenti? Sì, sa che pullo Tutti col contratto Nessuno studente fuori sede Tutti da Parioli stasera Venite? La stanza è chiuso? Può essere Questa è l'Italia Degli studenti fuori sede Che quanto sta? Non possibile che non c'è Un studente fuori sede? Veramente Oh, alzate questa mano Bastano per laurearsi Diecimila? No Quindicimila? No Cacchio Hai preso casa a Parioli Devo 20.000 Bastano Dai Pagarsi una pizza Una pizza a settimana Ce la fai? Due Un cinema? Un cinema a settimana E 400 canna al giorno Per dimenticare il tostato Quanto costa una camera? Un posto a letto? Quanto è arrivato? 200? Ah ok Tutti i posti Ma voi siete tutti studenti fuori sede Questi sono tutti gli affittuali Zossi Questi sono tutti quelli che affittano Sì, sì No A strano io ho messo 200 Quest'anno 700 Ah, va Di vera Eh Dopo a cantini Dopo a... Eh sì Scemo Vabbè Ecco che Ho capito che sono Quei babbo natali Che li è attaccati Sono studenti fuori sede Stanno a cercare Un posto a letto Questa è l'Italia Dei 3,4 morti su 3,4 morti su 3,4 Ma che è morto pupo? Oddio mi spiace Cioè Ho lasciato un segno Nella mia infanzia Gelata al cioccolato Adesso sono alla crema In un'ora di pupo Domani tutti gelata alla crema 3,4 Ah, ho capito che cos'è il 4,4 Una gamba Un piede Quattro dita Ho capito E lo stato dov'è?